Affiderete all'ABC dal 2017 tutto l'impianto fognario di Napoli? Questo è un altro risultato straordinario, passa da ABC l'intero ciclo delle acque, non solo con l'acqua pubblica, con gli acquedotti, il sistema fognario, l'intera rete idrica, una grande azienda pubblica, speciale, prima in attuazione del referendum e adesso sempre di più punto di riferimento di servizi così importanti, mettendo anche in sicurezza l'azienda, mettendo in sicurezza i lavoratori dell'ex consorzio San Giovanni, ancora una volta politiche virtuose a tutela dei servizi essenziali e a tutela dei lavoratori.